ragazzi oggi una partita vergognosa purtroppo abbiamo assistito una roma che pareggia 0 a 0 col csk sofia in casa e che dire purtroppo si va a sprazzi con i singoli già in altre partite avevamo avuto modo di ammirare questo e sono preoccupato un pochino per per il futuro perché non vedo non vedo gioco non vedo gioco oggi non diciamo che la roma b perché hanno giocato quasi tutti mancava beretù petro pellegrini dzeko però diciamo che oggi come oggi al momento di covid le squadre sono quelle dobbiamo contare su tutta la rosa la difesa era quasi titolare c'era mkhitaryan c'era spina sola e ragazzi la roma ha fatto pena purtroppo questo bisogna dirlo è vero che non ci dobbiamo demoralizzare per una partita però sono incavolato per una partita del genere a livello europeo se manca dzeko davanti il nulla mayoral se me mette a 40 anni io i scarpini penso che fa qualcosa di più di lui se due indizi fanno una prova è provato che a un campione non è mi pare visibile a tutti come caratteristiche non è veloce non c'ha un sacco di testa un certo romporta non 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 c'ha dribbio non difende la palla non gli ho visto una caratteristica perciò ragazzi io sono un po preoccupato per il futuro cristante in mezzo al campo così è veramente un nuovo buttato però continua a giocare la io cristante o si riporta in avanti come era con l'atalanta a fare il regista in mezzo ai due non lo so è un giocatore veramente inutile e oggi poi un'altra volta che comunque diciamo che ha giocato anche bene il difensore quello brasiliano ma che senso c'è ancora riproporlo e metterlo in campo non l'ho non l'ho capito veramente villar villar benino però ancora ancora acerbo forse un calciatore che in futuro la roma dovrà valutare se mandare in prestito ma ma comunque qualche qualità gli vedi a boia marocamaro e niente purtroppo la roma prestito biennale e contento che paolo lopez si sta riprendendo piano piano oggi ancora un meglio che contro la young boys e perciò contento per lui la difesa bene abbastanza bene ma io credo cioè nella difesa mia fazio smolling con bulla per me sono i difensori dovrebbero già ritolari ripeto secondo me per il resto la roma deve ritornare sul mercato e attenzione valutiamo bene forsega ci sono comunicatori che dalla mattina alla sera lo incensano però io ancora dopo due anni non vedo niente ragazzi e ripeto come dicevo prima piedi per terra calma adesso non è tutto da buttare però oggi è un pareggio non accettabile daiale forza roma al prossimo video ciao 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 Grazie.